Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace e iniziare a seguire per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo inoltre vi invito ad iscrivervi perché in questo modo potrete rimanere sempre aggiornati per ogni eventuale aggiornamento meteo e perché ben oltre il 60% di voi guarda i nostri video ma non è iscritto non vi costa niente, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella per voi è un piccolo gesto ma per noi è di fondamentale importanza per migliorare e portare sempre nuovi contenuti mi raccomando iscrivetevi detto questo andiamo all'analisi del video quest'oggi andremo a parlare del caldo già oggi abbiamo toccato picchi di quasi 40 gradi se non oltre sulla Sardegna ma il peggio deve ancora arrivare proprio perché nella giornata di domani si prevede altri nuovi picchi come possiamo vedere tra le 2 e le 4 del pomeriggio dove le temperature soprattutto sulla Sardegna arriveranno con picchi quasi se non oltre i 40 gradi quindi con un caldo veramente estremo dove invitiamo la popolazione o comunque le persone che ci abitano a stare in casa nelle ore più calde soprattutto gli anziani perché veramente potrebbe essere molto pericoloso caldo sempre molto intenso anche sul resto d'Italia soprattutto sulla Val Padana, alcune zone dell'area interna della Toscana, del Lazio e anche della Basilicata e della Puglia dove qua non escludiamo anche il raggiungimento di picchi di 38-39 gradi anche qua invitiamo sempre a uscire non nelle ore più calde soprattutto per le persone più anziane perché anche qui potrebbe essere molto pericoloso a causa del caldo e del sole molto intenso questo caldo poi ovviamente non si fa mancare come sempre con anche un'intensa umidità o comunque un'intensa afa che farà sentire queste temperature ancora più alti rispetto a quanto lo sono già di loro e quindi anche una percepizione del caldo veramente molto intensa caldo che persisterà anche durante la nottata perché come possiamo vedere sulla maggior parte se non su tutta la nostra penisola avremo temperature superiori ai 20 gradi su tutta Italia e con alcune località dove la temperatura potrebbe non scendere al di sotto dei 30 gradi soprattutto sulla Val Padana e le aree interne della Sardegna se non dopo le 11 quindi un caldo veramente molto intenso ma abbiamo anche buone notizie perché questo caldo sta iniziando a lasciarci a partire dalla giornata già di domani che sarà l'ultima durante la nottata già l'indomani le temperature scenderanno anche con l'aiuto di un arrivo di un minimo depressionario in avvicinamento sui Balcani e quindi anche con afflusso di aria umida e fresca attenzione come stavo dicendo però a questo caldo perché porterà anche temporali molto intensi soprattutto sui rilievi alpini e prealpini quindi anche attenzione a eventuali cellule temporalesche e informazioni sulle Alpi ringraziamo della visione vi invitiamo nuovamente a iscrivervi al canale lasciare un mi piace e iniziare a seguire per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo grazie a tutti